Ciao a tutti, sono Ariondo Schiocchetto, qualcuno forse mi conosce ancora. Primo ringrazio il Corriere delle Alpi, in Nattiglio De Coll, per questa bellissima iniziativa che, insieme all'amico Giovanni Portoluzzi con il suo libro, mi riportate indietro per me almeno di 50 anni. Era il 1963 quando accompagnavo mio padre in Lambretta nella palestra del liceo Tiziano e nella palestra del liceo Tiziano è cominciata la storia moderna, chiamiamo, della Palavolo Belluno e mi ricordo con grande simpatia quando Thomas Pellegrini arrivava prima dei ragazzi in palestra perché si divertiva tantissimo a fare le parallele e io rimanevo estasiato seduto sui bordi della palestra a guardarmi questo sempre vestito di bianco che si esercitava sulle parallele. Era una meraviglia e so che anch'io avrei voluto fare l'attrezzistica ma purtroppo la mia struttura e la gracilità non me lo permettevano. Quando poi arrivavano i primi giocatori di pallavolo, quindi io avevo 13 anni, ero relativamente gracile piccolino, mi vedevo questi UFO grandissimi, in particolare ricordo Gigismania e Arrigo Savaris, ma su tutti c'era Pennoni che poi dicevo, ma il nome è anche giusto, pennone, grande, enorme. Praticamente credo di aver assistito a tutti gli allenamenti dei Vigili del Fuoco, non era ancora a Palavolo Belluno, dei Vigili del Fuoco. Mio padre che era disponibilissimo, che insieme a Tommaso Pellegrini avevano fatto una combutta, non c'era mai orario, se c'era da far di più prove di schiacciate eccetera, mi sono divertito tantissimo a seguirli e a guardarli. Poi andando avanti con gli anni io mi sono interessato al calcio, altre attività sportive eccetera. Poi per caso nel 68 sono andato a fare l'allenatore di pallavolo anziché fare l'allenatore di calcio ed ero insieme a Savaris, Smania e all'amico Carazzai di Santa Giustina. Siamo stati i primi allenatori ufficiali FIPAV della pallavolo. Quando sono rientrato, poi mi sono messo in qualche società, anch'io ho cominciato a giocherellare. Dopodiché da quell'anno praticamente non ho mai smesso facendo l'allenatore, il giocatore, allenatore e dirigente. E ho visto e sono passato attraverso tanti giocatori e di tutti ho dei grandissimi ricordi. Venendo brevemente alla formazione mia, per non far torto a nessuno, ma soprattutto nominerei il Santa Giustina in toto, quelli della serie B, ma sono sicuro che loro mi perdoneranno e sapranno che loro comunque sono nei nostri cuori, nel mio cuore particolare. La maglietta è una maglietta particolare che ho io, perché è la maglietta di ricordo del nostro grande amico Mario Paganin, che ha giocato tanto con noi, al quale noi dedichiamo tutti gli anni il nostro torneo. Che dire, se adesso vengo alla formazione non voglio far torto a nessuno, quindi torno indietro a quelli con cui ho giocato, generalmente dall'altra parte della rete, perché io ero sempre nelle squadre minori, nella catapalle diciamo. Quindi comincerei a dire che i miei palleggiatori, Mauro De Barba e Flavio Rossetto, che secondo me sono stati i primi ad avere le regole dei pallavolisti e con dei tocchi fantastici e ognuno era sempre all'opposto dell'altro, nel senso che sono sempre stati uno sai e uno vigili del fuoco. Come centrali, con i quali ho anche avuto modo di averli sempre contro, Renzo Savasta e Walter De Barba. Non c'è che dire, parlano da solo, non è inutile che aggiunga altro. Come bande? Le bande, così ho dei ricordi di persone che forse ci siamo anche dimenticati. Uno è Mauro Zanco, che era fortissimo, aveva un'elevazione grandiosa, e uno era Celestino Brida, che anche lui aveva con un tocco particolare tutto suo, che ti fregava sempre. A disposizione, sempre di quegli anni, ricordo Giorgio Sartori e Mauro Gramegna, che anche loro hanno contribuito tantissimo a portare la pallavolo a dove è arrivata. Il Presidente, il Presidente io ho avuto a che fare soprattutto con Maurizio Pani, il Presidentissimo. Non è facile fare il Presidente di una società che ha militato per tanti anni in a uno. A volte può piacere o non piacere. Per me è sempre stato un grande amico e molto disponibile. Altro dirigente, anche questo un po' fuori dagli schemi, che è Piero Bassanello. Piero Bassanello del Trichiana, una persona simpaticissima, un amicone, che però metteva i suoi giocatori sempre di buon umore. Ecco, con questo io vi ho detto tutto. Grazie della disponibilità. Ciao a tutti.